La direzione dell'ASL di Nuoro rinnova l'appello alla donazione di sangue. L'estate è sotto questo profilo un periodo critico per le strutture ospedaliere del centro Sardegna che devono affrontare il notevole incremento della popolazione residente determinato dalla presenza sul territorio di migliaia di vacanzieri. Statisticamente aumentano anche il numero di incidenti, sia stradali che di altra natura, che richiedono l'utilizzo di grandi quantità di sangue. Le strutture ospedaliere del San Francesco di Nuoro e del San Camillo di Solgono, segnala la direzione dell'ASL, hanno fatto già registrare un aumento del fabbisogno di sangue per eventi straordinari, che si aggiunge a quello che necessita per assicurare una vita normale ai pazienti talassemici seguiti dal centro trasfusionale. L'appello della direzione dell'ASL è stato inoltrato anche alle forze dell'ordine e ai corpi istituzionali affinché ci possa essere una collaborazione sotto il profilo della donazione. L'ASL ricorda che i requisiti per donare il sangue sono quelli di avere almeno 18 anni, pesare più di 50 kg ed essere in buone condizioni di salute. Il centro trasfusionale del San Francesco di Nuoro è aperto per le donazioni tutti i giorni feriali dalle 8 alle 12.30. L'ASL invita tutti i cittadini, in particolare i giovani, ad avvicinarsi alla donazione perché, conclude la nota, oltre ad essere un gesto di estrema generosità, potrebbe essere l'occasione per fare un dettagliato controllo sul proprio stato di salute.